L'associazione Stazi e Cussoggi in collaborazione con la Regione Sardegna, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Banco di Sardegna, i Comuni e le Proloco invita tutti a partecipare alla sesta edizione di Primavera in Gallura, sino al primo luglio con il carro a buoi sui sentieri della memoria. Stazi e Cussoggi vi aspetta a Budoni, Martis, Badesi, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Trinità d'Algultu, Lui Riporto San Paolo, Agius, Tempio Pausania, Telti, Arzachena, Olbia, Monti e Vidalba. Stazi e Cussoggi vi aspetta sabato 24 giugno a Olbia con le vecchie strade per il porto, domenica 20 giugno a Monti con il pane montino. Stazi e Cussoggi un tuffo nella tradizione. Stazi e Cussoggi un tuffo nella tradizione.